buongiorno a tutti oggi cozze gratinate un antipasto che in Puglia non può mancare in una casseruola mettiamo olio d'oliva ed aglio facciamo riscaldare l'olio e buttiamo giù le cozze lavate e pulite copriamo con coperchio e aspettiamo che si aprino intanto in una ciotola mescoliamo pangrattato, formaggio, aglio e prezzemolo io il prezzemolo non lo avevo mescoliamo e mettiamo anche un filo d'olio andiamo a riempire le cozze con il trito dopo aver messo tutte le cozze nella teglia mettiamo ancora un po' d'aglio l'acqua delle cozze filtrata, olio d'oliva e pepe se vi piace in forno caldo a 200 gradi solo a gratinare per qualche minuto lasciami un like se anche questa ricetta pugliese ti è piaciuta ciao e alla prossima ciao ciao